11 dicembre 1997. A Chioto, in Giappone, alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo per ridurre le emissioni di gas a serra del 5,2% rispetto al 1990. Il protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati, che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati. Diviene operativo perciò solo nel 2004, quando con l'adesione della Russia viene rispettata questa clausola.